Eccoci qua, questa è Nome, questa è la scena dell'arrivo di un team dell'ID-Talos e questa è Monica Zappa si chiama, così capite com'è bello questa sensazione. E io l'ho fatta, so you can see how wonderful is this sensation, I did the race in 1996, in 2004, ho fatto la gara nel 1996, nel 2004, e this is the feeling that you got when you arrive under the bird arch, questa è la sensazione che hai quando entri sotto l'arco. Il team è di Monica Zappa, today, ecco qua la sua slitta, bene fatta, i giudici controllano tutto quanto, c'è il pubblico, c'è la gente, c'è l'audience qui. C'è una bellissima atmosfera, c'è una bella 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 atmosfera, c'è Mark Norman, c'è Arad Cacicchian, from Italy. Oh, hello sir, nice to see you again. Nice to see you again, Mark Norman, race marshal of the Ideal Stable Race, we've been a long time friends here, huh? Yes, we have, it's been a long time since we were over in LP Rod, in school and everything else. Yes, in Mashing School, Mark e io siamo amici da una vita, lui è il giudice, il race marshal of the Ideal Stable Race. So, from Nome, Alaska, Saturday the 20th. 21st. 21st, oh, Saturday the 21st, sabato il 21 di marzo 2015, 2015, Mark Norman, race marshal of the Ideal Stable Race, Arad Cacicchian, International Mashing School from Italy, Scuola Internazionale Mashing in Tarvisio, greet you and wish you all the best and a very good life. Vi auguriamo una buona vita e tante vele cose. See you. See you. Almost here, we're off the trail. Very nice. Thank you. I'm the president. Hi. Hi. Come on. You're welcome. I'm the president. Grazie a tutti.